A Sant'Alfio il Consiglio Comunale nei giorni scorsi ha approvato le direttive al PRG per la revisione dello strumento urbanistico. Voto quasi unanime, fatta eccezione per le astenzioni dei consiglieri Neglia, Mauro e Tropea. Voto che adesso apre i lavori per la revisione del nuovo piano regolatore generale. L'ultimo a Sant'Alfio fu approvato nel 2002. Nell'impostazione illustrata in aula dal sindaco Giuseppe Maria Nicotra sono previste alcune modifiche rispetto al passato. Fondamentalmente saranno ridotte, su indicazione del commissario ad acta o almeno questa appare l'intenzione nelle direttive, le cosiddette zone C, cioè le aree edificabili preso atto che non è all'orizzonte nessuna espansione demografica per la comunità Sant'Alfiese o perlomeno restano inalterate le zone C solo nelle aree adiacenti al centro storico. Il tema del piano regolatore generale sarà ancora presente da qui alla fine della consigliatura nel 2018. L'altro punto importante, discusso nel corso dell'ultima seduta di consiglio comunale a Sant'Alfio, è stata la presa ad atto, approvata all'unanimità, riguardo la problematica dei pali dell'illuminazione della strada provinciale 84, Fossa Politi Taverna e la via Castagno dei Centrocavalli. In entrambi i casi sarà richiesto formalmente un intervento da parte dei tecnici della città metropolitana di Catania, affinché vengano rimossi i pali in legno, molti dei quali già divelti dal vento e quindi ritenuti pericolosi.